800.000 test antigenici rapidi e gratuiti per 800.000 marchigiani rigorosamente volontari. E' questo il piano annunciato dal governatore Francesco Acquaroli per sottoporre ad uno screening di massa più di metà della popolazione regionale. Un piano chiaro, il governo regionale vuole arginare definitivamente la seconda ondata di Covid-19 e al contempo scongiurare sul nascere una terza ondata. Ecco perché la regione sollecita alla massima partecipazione verso questa serie di test gratuiti che consentiranno di monitorare i contagi in una consistente fetta di popolazione regionale. A cominciare da Pesorefano. Già, perché il programma dello screening di massa prevede che prima di Natale si sottopongano ai test solo gli abitanti delle città superiori ai 20.000 abitanti. Nel mese di gennaio si procederà invece con lo screening nei centri abitati più piccoli. L'assessore regionale alla sanità, Filippo Salta Martini, ha spiegato nei giorni scorsi come i test antigenici rapidi siano approvati dall'Istituto Superiore di Sanità e utilizzino gli stick in naso e gola proprio come tamponi molecolari. La differenza è che il risultato dei test antigenici arriva dopo tre minuti. Insomma, se si è positivi o negativi al Covid-19, lo si conoscerà all'istante. Lo screening di massa non ha ancora una data di partenza, ma si stanno già individuando i luoghi nei quali effettuarlo. A cominciare dalle sedi della Croce Rossa, con la quale c'è già un accordo con la regione in tal senso. Fra i luoghi papabili, anche i drive point dei tamponi, come suggerito dal consigliere regionale Andrea Biancani. Ci sono screening di massa volontari e altri forzati, come quelli dell'ospedale Santa Croce di Fano, dove nel weekend si è rilevato un focolaio di casi positivi al Covid-19 generato nei reparti di medicina e gastroenterologia. 20 pazienti sono infatti risultati positivi al Covid e questo ha portato a convocare l'unità di crisi dell'ospedale, che ha deciso una nuova riorganizzazione dei posti letto fra reparti. Ma soprattutto ieri ha già deciso di sottoporre a tampone i 150 pazienti ricoverati in degenza e sottoporrà a test antigenici circa 400 membri del personale dell'ospedale.